Buonasera, sono Laura Antichi e volevo presentarvi una linea del tempo molto semplice da realizzare e molto dinamica, in realtà aumentata, che è Read the Right Thing. Allora scrivete nella casella di ricerca Read the Right Thing e poi cliccate su Timeline. Questa è la via più semplice per arrivare subito all'applicazione dentro il sito. Quindi sono in Student Interactive, Timeline, Get Started e mi si apre l'applicazione Timeline. Mi chiede come voglio organizzare questa Timeline, se per data, e mi fa l'esempio, quindi per cronologia, per time, tempo della giornata, i momenti diversi della giornata, o per events. Ok, mi chiede di mettere il mio nome, ok, il titolo del progetto, scriverò Aristotele, vita. e clicco su Start. Molto semplicemente clicco in un punto di questa Timeline e nella finestra che mi si apre, nel Label, metterò la prima data, 384 avanti Cristo. nella, darò una short description, quindi Aristotele, va bene, dipendo Aristotele, nasce a Stagira. e potrei mettere una full description che appare, quindi, nella, soltanto nella, nella print out di questa linea del tempo, e posso aggiungere Choose an image andando sul mio computer dove ho preso l'immagine di Aristotele con Platone. Ho preso questa immagine che è Royalty, che è Sidi Pubblico Dominio. ecco, la rimpicciolisco, magari, ok, quindi ho aggiunto la mia immagine e do l'ok a questa prima informazione sulla linea del tempo. Posso spostare la prima casella sopra, oppure sotto. La posiziono, visto che è la prima sopra. Poi, mi posiziono su un altro punto della linea del tempo e scrivo la seconda data, che è il 367, sempre avanti Cristo, e do la short description e entra nell'accademia platonica. potrei anche qui aggiungere un'immagine vabbè, adesso, per semplicità, do l'ok e la posizione è qui sotto. Facciamo un'altra data e mettiamo qui, ci posizioniamo qui nel label scriverò il 342 facciamo il prima asso quindi 347 347 avanti Cristo Cristo e short description fonda una scuola ad asso fonda scuola ad asso sposa pizia mettiamoci anche sposa pizia ok e do potrei scegliere di nuovo l'immagine do l'ok metto sopra ora a questo punto potrei pensare di continuare questa mappa più tardi allora vado in save qui me lo salverà nel formato rwt e poi la potrò aprire successivamente per ultimarla quindi faccio save con save vedete che me la quindi salva in quel me la può salvare in quel formato mettiamoci salva ok oppure potrei decidere una volta che ho completato la mia linea del tempo finish e potrei quindi salvarla come copia oppure salvarla in maniera finale mandarla come per mail come quindi linea del tempo finale e print final quindi anche è interessante la possibilità di quindi stampare questa timeline come vedete che porta in marchio comunque di read the right thing in questo formato ecco è tutto buonasera ok Grazie a tutti.